Stiamo scollinando, ci stiamo avvicinando alla ripresa delle attività, delle attività che saranno differenti, non saranno chiaramente come prima, dovremo avere misure di sicurezza molto attente e prepararci in queste settimane anche a poterle attuare attraverso tutto ciò che è necessario per questa situazione come guanti, mascherine, indubbiamente dobbiamo organizzarci per affrontare in maniera differente la riapertura. Ora però cosa potrebbe accadere? La nostra testa cosa potrebbe fare? Iniziare ad attendere che arrivi quel momento, ok sì, riapriamo, ritorno all'attività fisica e questo potrebbe farci quasi bloccare e non fare attività, quando invece abbiamo di fronte a noi settimane fondamentali dove anzi dovremmo continuare a portare avanti quello che abbiamo fatto nelle ultime quattro settimane con ancora più energia poiché ci agevolerà per questa fase 2. In ultimo, pensare che nel momento in cui staremo nella fase 2 faremo continuamente incontri fisici non è quello che accadrà perché ci sarà sempre bisogno di incontri prima digitali poiché andremo a fare gli appuntamenti che è veramente necessario fare. Quindi continuare ad abituarci a fare videoconferenze, a fare una preselezione, a fare una buona comunicazione su tutti i nostri immobili è un elemento che dovremo continuare a portare avanti. Ci stiamo avvicinando a quella che sarà semplicemente un nuovo modo di intendere il nostro lavoro perché in fondo abbiamo continuato a farlo e lo continueremo a fare anche se con maniere e metodologie differenti. Io resto produttivo.